Ciao, sono Michele Ali, siamo qui a Passo Giao tra Colle Santa Lucia e San Vito a far provare ad atleti di alta discipline e influencer lo snow kite. Diciamo che il pello dello snow kite è programmare una gita con le pelle di foca, con lo zaino, il suo aquilone dentro, magari fare un'oretta di pelli, aprire l'aquilone e cominciare a esplorare la zona e poi se finisce il vento possiamo ripiegare tutto nello zaino, rimontare le pelle di foca e tornare a casa oppure continuare a sciare.